Oh, Annesa, sempre più bella, eh? E quando è che ti sposi? Ricordati che voglio essere tuo testimonio, eh? Paolo! Paolo! Vengo, vengo. Addio, Annesa. Io me ne vado che è tardi. Lui viene con me. No, l'accompagno fino in fondo al paese. Torno subito. A far che? Io chiudo la porta, dormirei fuori. Lasciatevi in pace, datevi la mano. Vieni con me, Annesa. Che ti prende? Niente, vieni con me. Qui la casa la vendono. No, non la vendono. Sì, sì, la vendono. Vieni con me. Non la vendono. E se fosse vero tu non devi dirlo. Sta zitto, vattene. Ma Annesa! Ia, vattene. Perché lo tratti così? Non bisogna essere cattivi con chi è buono con noi. Si offende Dio. Dio? Dio! Dove sta Dio? Se ci fosse, non permetterebbe la rovina di questa casa? Eh, Dio sa meglio di me, di te, quello che deve fare. Insomma, non volete parlare con Dio tuo? No. Allora vi parlo io. No, mamma mia, no. Ma benedetto uomo, se lui non mi interviene, è la rovina. Meglio la rovina che chiedere denaro a tu. Beh, ho capito. Vi parlo io, però proibisco. Ah, se è così, allora vi tolgo il disturbo. Pretevirtis, vi prego. Vi prego, pretevirtis, abbiate pazienza. È così nervoso. È stardo come un mulo. Lo so, lo so. Ma non ci abbandonate. No, no, non vi abbandonerò. Domani parlerò io con quell'altro mulo. Però che famiglia, Dio! Oh, Vandesa, se il signore mi chiamasse... Oh, ditelo. Tutto si accomoderà, state tranquilla. Vole! Francesca! Si sente male? Vandesa! Si sente male? Vandesa! 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 Grazie a tutti.